Buongiorno a tutti, siamo con Francesca Paesini, la responsabile dell'ASD Sant'Arcangelo, società che svolge attività sportiva giovanile e anche non, perché avete anche una prima squadra così, nel campo della pallavolo e della ginnastica, ginnastica artistica. Sono molto felice perché è una società che collabora con noi già da diversi anni, come tutte le società di Sant'Arcangelo e all'interno del rinnovo delle convenzioni e siamo riusciti a rinnovare anche questa convenzione, che ricordo, perché ci stesse seguendo, offre la convenzione con fisiochinetica per il tesserato e per i familiari tanti vantaggi, come i consulti fisioterapici e le visite posturali, sempre gratuite in qualsiasi momento. La visita per i tesserati, soprattutto per i bambini, del progetto Prevenzione, dove andiamo ad analizzare tutti i parametri che possono influire in una crescita armonica e a cercare di intersettare quelle che possono essere delle problematiche, soprattutto con lo stile di vita attuale. Una visita molto molto bella, dalla quale abbiamo poi sviluppato tante altre iniziative con specialisti, eccetera, oltre poi a sconti sulle terapie, sui nostri partner, agevolazioni varie, eccetera. Comunque questa era la parte commerciale. Siamo molto contenti appunto di aver confermato la partnership anche con l'ASD e non mi dilungo, lascio la parola a Francesca che ci spiega un po' come si svolge la loro attività. Nella pallavolo so che hanno ottenuto degli ottimi risultati, ce ne parlerà lei. A te Francesca. Grazie Corrado. La mia società è una società piuttosto giovane, come diceva Corrado però siamo arrivati a dei risultati buoni. Abbiamo otto corsi di ginnastica artistica e otto corsi di pallavolo. I bambini nella nostra società iniziano dai quattro anni fino ai trent'anni. I corsi di ginnastica artistica, come dicevo, sono otto. Non lavoriamo solo a Sant'Arcangelo ma anche nel comune di Sogliano. La ginnastica artistica ha portato buoni risultati. Facciamo le gare, svolgiamo gare WISP e abbiamo avuto due bei risultati come regionali con la vittoria di due bambine a questi livelli. Anche nella pallavolo abbiamo raggiunto buoni risultati. Abbiamo otto corsi, anche qui dal mini volley fino alla serie D. L'anno scorso infatti abbiamo vinto il campionato di prima divisione e quest'anno abbiamo svolto il campionato di serie D e ci siamo classificati a metà classifica. Per il primo anno direi è un risultato molto importante. Per cui abbiamo una squadra a livello regionale anche nella pallavolo. Anche qui partiamo con l'età dei 5 anni, con il mini volley e arriviamo con la prima squadra e con ragazze anche di 36 anni che ci possono dare quell'esperienza che serve nelle prime squadre. La collaborazione con Corrado è sempre stata buona e le ragazze sono indirizzate alla fisiochinetica se ci fossero dei problemi. Per cui siamo appoggiati anche da questo punto di vista a un'ottima collaborazione. Grazie Francesca. Ringrazio anche il mio socio Davide Lodevichetti che oggi non è potuto essere qui per altri impegni. Nel lavoro quotidiano con gli atleti ha un ruolo fondamentale essendo il nostro punto di riferimento su tutte le problematiche muscolari. E' veramente bravo e non lo dico perché sono parte in causa, ma veramente bravo. Grazie ancora Francesca all'SD Sant'Arcangelo e che la nostra collaborazione duri a lungo.